WAHEI KUJU! Benvenuti da vostro Andrani in Clamanturò su Yo-Kai Watchtree! Iniziamo oggi con le missioni Blasters a tutta birra! Ok, chi è? Un nuovo membro del quartiere generale? Chi era? Scegli un covo da esplorare! No, no, aspetta, c'era qualcuno a detto! Mauro Becker? No, no, ho già parlato con lui! Dunque, ho due covi da esplorare! Anzi, no, ne ho ben più di due! Abbiamo anche quelli proibiti! Ne ho davvero un bel po'! Abbiamo serratura per Dio, che in realtà io avrei già fatto! Ah, ma questo è il numero due! Ah, ora capisco! Diamo tomba del faraone! Zampa serrata, Swinger 2 Un'altra, zampa alta E Fauci Oh, questo è un po' più difficile già! Facciamo allora... Io direi di completare... Di fare gli episodi completando... Bene o male, se ci riesco tutto quanto... Un posto ci saranno penso 5 missioni massimo, credo! Quindi facciamo questo govo, spedizione, e affrontiamolo con questo team che... Comunque sia, ho messo Emma il grande squadra, quindi... Penso che... Un aiutone... Non un aiutino, un aiutone, eh! Abbiamo già visto la scena, com'era di entrata, quindi... Possiamo anche saltarla... Non so perché, ma abbiamo Laura... Penso sia Laura, non lo so di preciso cos'è... Bene! Ho dovuto operare un reboot forzato perché non andava... Mettiamo anche Home Blue che a quanto pare è a livello 85! Eh, è forte! Ok, perfetto, ora va! Vediamo un po' quanto è forte Emma, dai! Eh, sì, è forte Emma, dai! Trovate, meno male, meno male le abbiamo trovate! Aha! Ok, questo è interessante ora! Perfetto, ora possiamo andare... C'è il boss, Tenzio... No, Furio Vaso! Eh, gli aiuto? Ok, calma però! Che succede? Questo mi sa che è più facile da sconfigge, eh! Quanto ampio! Eh, vabbè! Ma... Ma... Eh, eh... Wow! Wow! Ora capisco! Fatto! Però cacchio, ragazzi! E che attacco era? E che attacco era? Wow! Un attacco davvero potente è stato! Si è fatto esplodere! Wow! Sempre alla serratura per Duke Abbiamo... Tebre mummia Oh, c'è frutto proibito Tesoro dell'abilità E alga sensei Penso che possiamo andare Anche ci mancano giusto... Pochi punti salute Vai, 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 eccoci, vai, eccoci, vai, vai Vai, 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 attacca! Dai, ecco, distruggiamo Va, ecci, va bene Energy Max dove però? Ah, l'ha fatto... Lui l'ha fatto Perché se no non si spiega È andato anche lui, dai Vediamo cosa ci dà Eh, nulla Praticamente Oh, però abbiamo un oggetto per Duke Che è il... Tesoro dell'abilità Credo che però manchi... Ecco, mi sa che questa è l'ultima rovinosa Cavolo Uff, cerchiamo di affrontarla Pronti a... Ah, vai, rovinosa Non so più che dire Sono un po' preoccupato Mi sa che è forte Che bella presentazione Beh, certo Ah, si trasporta pure Eh, certo Ok, ho capito come attacca Perfetto Dove va ora? Eccola qua Se fa sempre così Però è un po' una chiavica Potrebbe smetterla, per favore? Ah, ok Ma è fermata Vabbè però ragazzi Così è impossibile Sì, ma però Fermati Vabbè, vabbè Allora Non riesco a toccarla Oh, meno male Oh, guarda che sta fermo Come non detto No, come è caduto Ah, ok No Aiuto Ma dai Porca miseria Perfetto Abbiamo fatto un po' di danni Cosa? Oh mio dio Perfetto Dai ragazzi Che sta andando bene Dai Bravi Bravi ragazzi Dov'è? Bravi ragazzi Mi piacete Mi siete piaciuti stavolta Questa è nostra Questa è nostra Mi siete piaciuti davvero Mi siete davvero piaciuti Questa è nostra Tanto sta lotta Tanto mi potenzio Se permettete Va, eccola No Porca miseria Pochi danni Pochi danni Eccolo Presa rovinosa Grandi Grandi Bravi davvero No, no, no Però questi oggetti così No, però dai Mi fate vergognare Sconfitta Quindi abbiamo completato La serratura Questo cos'è? Ah ok Un altro oggetto di quelli Delle abilità Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ancora tu Come? No, è impossibile È impossibile Non pensavo Saresti andati a prendere Tesoro senza di me Non va bene La prossima volta Arriverò al tesoro Prima di voi Ritanto Sarai più fortunato Eh? La mia Petrufo sta brillando Come? Il Perdubelisco Mi sta chiamando Perdubelisco Devo andare Wyatt? Dove stai andando? Il Perdubelisco Oh, andiamo a vedere Andiamo a vedere Allora Perdubelisco Cosa sono queste colonne Guarda E impara E impara La colonna sta brillando? Wyatt Perché sta brillando? Non ti ricorda niente Allora Eh? In realtà Non lo so Ma sapevo Sarebbe successo Tutto questo È davvero Molto strano Ogni volta Che completiamo Appunto Un Uno di quelli Un dungeon A 100% Penso Si illumini Un obelisco Altro che colonne Guardate laggiù Oh Yu-Gi-Oh L'avete visto anche voi? La piramide Fimba di me Fa oggi Pare che abbia Cambiato aspetto Quando il perdubelisco Ha iniziato a brillare Wow È vero C'erano altre tre colonne Stai dicendo Che la piramide Può ancora cambiare aspetto? Non voglio dare Di affittare A questo Pettacolo Ottimo Sarà nostro compito Indagare Sul mistero Della piramide Blasters A lavoro Certamente Anche dopo aver liberato Il potere Del perdubelisco Le rovini hanno in serbo Una sfida Per te Il covo scuro Nel lungo Lunghissimo Meglio che ti porti E lo snack Più di 20 piani Sì A volte anche più di 40 Puoi darti alla fuga Durante il percorso Puoi continuare A sporare Sendo la tenda verde C'era anche In blasters Classico Questa cosa Però Comunque sia Per oggi abbiamo fatto Già un bel dungeon Intero Al 100% Ovvero La serratura Se non sbaglio Vediamo un po' Ancora nuovo? Ah ecco Questo qui Abbiamo anche Tomba del faraone Ok Prossimo episodio Tomba del faraone Perduo Quindi Per questo video È tutto Come sempre Ovviamente Vi ringrazio Per averlo seguito Vi ricordo Ovviamente In descrizione Il link Per Instagram E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre A prossimo video Bye bye Ciao 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 Ciao